Campionato al di sopra delle righe per gli under 16 del Castelvetrano 6 in unte in cima alla classifica nel girone palermitano under 16 4 le vittorie consecutive per il Castelvetrano alla ricerca di un ulteriore squillo nella gara dello stallone castro di Campobello di Mazzara Ospite di turno la polisportiva Gonzaga, terza in classifica che dalla sua ha infilato 3 vittorie in sequenza Passiamo alle scelte operate da Mr. Serafin che scende in campo con Cenedese in porta, Catania, Ciccio, Pecoraro e Greco A comporre la linea 4 difensiva, Giacalone, Acquisto e Norrito in mezzo al campo, tridente offensivo composto da Salerno, Tumbarello e Bonino Dirige la partita di Giuseppe Palermo di Mazzara quando grazie all'ausilio e all'immagine a cura di Mario Carpinteri passiamo a raccontarvi del fin di questa sfida Che sia per l'ottavo, Tumbarello per Norrito prova il diagonale che termina sul fondo risposta degli ospiti al decimo con il cross di Guarino per Fiorentino Che calce in bocca a Cenedese Al diciottesimo palla in profondità di Ovusu per Fiorentino Ancora una buona chance per la polisportiva Gonzaga gettata alle ortiche 4 minuti più tardi il destro di Guarino non inquadra il bersaglio grosso Alla prima vera occasione Castelvedrano che passa in vantaggio Bonino in azione personale Il primo tentativo non è quello vincente Il secondo è quello buono 1-0 per la compagine Affiliata Palermo immediata risposta degli ospiti Con Ovusu che brucia il diretto marcatore La puntina vale l'1-1 immediato dopo appena tre giri di lancette Castelvedrano che allora si riversa in avanti Palla in profondità per Bonino che calcia trovando però la deviazione in corner da parte della difesa ospite Dal corner che ne consegue sfera sul secondo palo per Tumbarello incornata Imperiosa che però non inquadra lo specchio e la porta Termina così la prima frazione di gioco squadre negli spogliatoi Sul parziale di una rete a 1 Passiamo a quelle nostre immagini La ripresa direttamente dal fischio di inizio Errore della polisportiva Gonzaga La sfera viene recuperata da Bonino che calcia trovando la respinta di Cannizzaro Sul quale si avventa a Tumbarello Direttamente dal calcio d'avvio della ripresa Uno scippo in mediana e via a grandi falcate verso la porta avversaria Tre minuti più tardi corner messo dentro sul quale svetta Pecoraro Mette in cassaforte la partita in appena tre minuti La compagine di Mister Serafin Punizione intanto di Interisano che sorvola la trasversale Inizia la girandola di Cambi con Civello che prende il posto di Lipetri Poi tocca a Greco per Saeed Minuto 71 Palla per Bonino che prova il tocco sotto Salvato però a pochi metri dalla linea di porta da Muscato Ancora un doppio cambio che coinvolge Lucchese e Fasulo Che rilevano Norrito e Cenedese Corner intanto messo dentro per Tumbarello Ancora un'incornata Qui gran risposta da parte di Cannizzaro Nel finale Scampoli di gara per Pecoraro In un luogo di Tumbarello e per Triolo Che rileva Bonino Non accade più nulla Allo stallone casto di Campobello Di Mazzara Castelvedrano se rinunte Polisportiva con Zaga E già storia E termina per 3 a 1 Un saluto amici appassionati Alla prossima